Quindi credo debba cadere qui con un piccolo bambino impiccato ok Oh c'è la Oh Oh Buin Ciao a tutti, ciao a tutti Ciao a tutti Oh, oh, ok, ok, dannazione, non è successo niente, non è successo niente Sempre attivo, sempre pronto, con il tasto sullo spazio Ok, perfetto, perfetto Ah, ok, ok, ok Era una chiappa Ok, per... Wrong way Ok, sono morto Dannazione Dannate Indicazioni stradali, sbagliate Capannelle Di quel cazzo è? Capannelle Vabbè, fa niente, fa niente Se abitato al capannelle era una battuta, uno scherzo Se non abitato al capannelle Chi se ne frega, sinceramente Quindi, credo debba cadere qui Con un piccolo bambino impiccato Ok Oh, c'è la... Oh, 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 oh Buina Malizione, sono Più forte della morte Ok Richard Benson Sempre con noi, ma... Dettagli Dettagli Ora, pensiamo a questo Ok Facciamoci trasportare da queste ruote Siamo venti Ah Sì Siamo venti, no? Sì Siamo venti Ok, perfetto Qui Oh, wow Perfetto Sono maledettissimo Primo livello Prima vittoria Yeah Che dire Se non Non sono giunte ai favoriti Ah, ok Fa niente Giù 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 Vai giù Vai giù Attenzione, vai giù Proviamo Happy Halloween Ok, no, non è in Oh, and are the Olympics 4 Visto che ci sono le Olimpiadi Credo che le Olimpiadi Sia Indicato Oh Eject And grab Perfetto E ora Fuck Con uno sputino Ma vabbè Non neanche si è visto Spero Ok 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 Chiappato Chiappato Dio mi se ci è visto il pezzo Lo sputo Taglia quel pezzo Ok Ah no Tonno Ok Sto avendo delle mestruazioni Dallano Ma fa niente Sono un uomo Cioè Sono un vecchio parallelo Delle mestruazioni Oh Perfetto Perfetto Oh no Ok Ho ferrato Questa Peco No 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 Spidi Andiamo Ok Non c'è Non c'è No Non c'è 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 Ok Ho fatto anche partire Questa Ma fa niente Perfetto Mettiamoci in questa Posizione Oh Yeah Fuck This shit Let's go Earth Perfetto Ok Non so cosa è successo Ma ho vinto Quindi Ti casta sinceramente Ho vinto Basta Può essere considerato Una bellissima vittoria Per me E anche per voi però È una vittoria di entrambe I soldi li tengo io Ma la vittoria Ve la prendete voi Se credo 50-50 Se può fare Se Viking Revenge 3 Yeah Già dal nome È molto interessato Oh Cagdi Ok Martelli C'è un Tor Ma io Ok Perfetto C'è un uomo Che indica giù Quindi Che Oh Ok La testa si è Ricomposto il corpo Perfetto Oh Ok Superbissuto Ok Ho visto Un Sorta di Carro No Ok Mi devo Tipo nascondere Sotto al carro Ma Ok Salta Salta Fare il cazzone Portami Via Di Qui Ti odio Riproviamoci Per l'ultima volta Oh No 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 Devo andare Sotto 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 Dannazione Ok Devo prenderlo Precisamente Lì sotto Quindi Win Win Fottetevi con i vostri Arpioni Maledetti Vichinghi Arpioni Wow Perfetto E anche questa Ce l'abbiamo Ok Perfetto Ok Piccoletto Vichingo Fammi passare Fan un uomo Sul segue Fammi passare D'anzione Ok Ciao Non so Cos'era una Perakiller Ok Non voglio tornare indietro a controllare Quindi Facciamo in modo che sia una Perakiller Oh no 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 Col cazzo Che te lascio Uccidere il mio personaggio Win Lavora è annegato Fanculo Tanto ho vinto Ok Facciamo un po' di User Levels Quindi Oh Slender In HD Bellissimo Forse Oh D'anzione Non c'è un blocco Ok Parti Slender Che sta Ok Oh Cod... Oddio D'anzione Ok 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 Seriamente Bellissimo 5 stelle Dimmi Metti i fare preferiti Perfetto Ok Wow Wow Ah Cazzo mi è venuta la pelle d'oca Quando è spaurata Non pensavo ti potesse fare Ottimo livello Livello 1 Ok Death Ah Più una Balla Kill JB Ok Panco Fuck Oh È perdata No Non posso perdere A me che ho superato Slender Quindi Si Cribbio Mamma mia Ok Ok Non fare il cazzo Non fare il cazzone Perfetto Configurazione Parti Livello 2 Fammi Ok Perfetto Quindi Quando Hai 300 Punti 150 Oh Aggiungi Aggiungi Non fare Ma sono un pro Sono un dannatissimo pro Su 100 200 Oh Oh Dannazione Maledetti Bug Ok Ok Ora ho vinto Ora Ok Perfetto A dannatissimi Bug Ok Pos Pos Ah Ok Ci saremo Ci staremo 3 ore e mezza Fammi iniziare questo Dannato Livello Ok Colpisci Gli switch Oh no No Non mi togliere La palla Non mi Ok Switch 1 Dammi una palla in più Ok Oh Dannazione Ok Basta Basta Ho vinto 2 livelli su 3 Già E' tanto Missione Uccisi JB Yeah Oh Tu Tu Ascoltami La tua missione è uccidere Justin Bieber Dovrei fare attenzione alla sua sicurezza Tuo capo Perfetto Justin Bieber Security Perfetto Justin Sto venendo Oh no Ok Perfetto Non è successo Non è successo Non è successo Niente Oh Ok Perché c'è una tazza del cesso Niente Ok Si possono togliere le gambe Grazie Grazie Ok No Fa attenzione Fa attenzione Segway guy Uccidi Tutte Detannatissime Oh guardia Ok Soglie Siete anche voi alleate con Justin Bieber Perfetto Vi devo uccidere Ok Ce l'avete fatta per questa volta Ma nella prossima Vi massacrerò le chiave Venite qua maledette Sedie Sono loro che hanno Fagocitato Justin Bieber No perché Fagocitato Hanno Sì Volevo dire hanno fagocitato Il portafoglio di Justin Bieber Quindi Tocca ucciderle Tutte Maledetto Justin Bieber Maledette Le sedie Ok Prima o poi Troverò un modo per ucciderle E quel giorno Sarà il giorno Della mia vittoria Muori Justin Ok Gambe sono rotte Corri Ok Perché corri Vabbè Non Facciamoci domande Corriamo Poi ci sarò Yeah Perfetto Andiamo al menu Rob swing hard Vediamo un po' Faccio schifo Con questi livelli Go Ok Non puoi iniziare Così Ok Perfetto Wow Ok Devo Ricom... Tognatissimi Ok Ok È ancora vivo Ok Questo farà male Questo farà molto male Ok Riavvio Per pietà Scusate se Non ho parlato Per un attimo Ma Oh Tutto No Wow Ok Domanda tecnica Come Ah ok Ok Perfetto Sono No Ok Ho perso tutte le braccia Ma dimmi che non devo afferrare nulla Eppic win Like Bushbell Ehm Ok Andiamo avanti Ehm No Revenge Pink Fass Diamo Ok Oh Wow Ok Ho vinto Win E anche questa è andata Mio Dio Sword Catching Versione 3 Ok Devo Prendere Oh Donna Vabbè Ho preso Justin E ho vinto Comunque Ok No Lo rifaccio Perché devo afferrare Tipo la spada E uccidere Justin Oh Va Bene Oh Ok Gli ho strappato La testa Quindi Credo che Sia anche Ma Ora ho La tua testa Già Ok Ci stavo Ok Segue guy Sei un tipo Orribile Fa culo Stavo Stavo Tessa Di Cassi Biber Ceper 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 Ok Ok Basta Basta Questa è una cosa Troppo orribile Anche per Uno come Justin Biber Credo Non lo so Un altro Slender Proviamo Proviamo Non si sa mai Tonnotissima Tonnotissima Connessione Ok Ok Trenno Dai Ok Ci ha fatto scendere Questa Ma niente Proviamo Tonnotissima Ok Proviamo a non morire Figliolo Prova a non morire Papà Ce n'è morto Maledettissimo Bambino Che devo fare Io con te Io l'ho detto A tua madre Che doveva avvortire Gli non mi dava retta Diceva No Non possiamo avvortire Questo è il nostro Pio Donnazione Sono anche morto Un'ottima posizione Quella Ok Figliolo Sei morto un'altra volta Sì papà Oddio Quello devo fare Io con te Non posso Non ci sono neanche Più corsi Di sopravvivenza Big Jim Mio Dio Saresti una pighetta Anche lì Ok Questo è essere Un vero uomo What the Ok E' morto Donnazione Riproviamoci Un'ultima Oh già E' un quarto d'ora Ok Ci riproverò Un'ultima volta Figliolo Stai a te Ok E' morto Oh Va via Bomberò Tua moglie Vieni qui Vieni qui Oh Mio Dio Ok Ti lascio stare Non sei Ok Bomberò Tu Ok No Questa è Britta Ok Il marito Dipo No bomba Mi ti prego Bomba Non voglio Bombare Ora Donnazione Muori Ok Che se ne frega Ho finito il livello Quindi bro Termino questo Video E poi Giorno Alla prossima Video In play Sempre qui Dove posso Rex Non tu No Ciao a tutti Bro